Io ho fatto una cosa che la mamma hanno fatto, sono stato sulla spiaggia di Copacabana. Ah, oh! A me non mi pensa tenerla, non mi muoio, capito? La mascherina finisce, da qui, cioè da qui, da qui, da qui, da qui, da qui, da qui, da qui. Io quando ci vado io, come paziente, no. È qualcosa da dichiarare? C'è un'escritto, non si non. Come paziente, io non mi la mamma. Io non mi sono, non mi sono. Io non mi sono. Sì, io... La... Non mi senta silenziosa. Ora vai, non mi senta, ma io non vuoi ora. Ora! Ora! Brava! Eh! Oh, Gio! Oh, Frenzi, mi senta pure. Oh! forse va da micheluccio tuo va da michele babbo natale a tutti i cittadini è vero esatto il babbo natale sono io e io vado da tutti capito la notte impegnativa viola ti faccio questa domanda e poi vado via ma dove ti piace stare più che allo saia o a new york ha detto qua mi piace